Musica Bella a tutti ragazzi qui è Teddy e benvenuti al nuovo campionato master su PES 2021 Ma questa volta su PC, come vedete in basso a sinistra i tasti sono quelli dell'Xbox Appunto perché siamo su PC Quindi gameplay moddato, quindi gameplay diverso rispetto a quello della console Quindi gameplay molto più divertente Non ho utilizzato il Cider, quindi il gioco è praticamente quello base Solamente moddato e ovviamente aggiornato al calciomercato recente Di conseguenza, let's go Allora, questa è un'idea non mia, ma un'idea del buon Robby Visto che abbiamo un nuovo Newcastle, una nuova proprietà miliardaria, piena di soldi e quant'altro Direi che fare una cosa più o meno realistica da questo punto di vista non fa schifo Ovvero prendere il Newcastle Metterci un allenatore a caso, io ci metterò Roberto Carlos Ma soprattutto Fare questo, ovvero budget di partenza grande E quindi praticamente avere infinità di credito sostanzialmente Ma con un ma Ovvero Il budget ingaggi, che è quello dei contratti Non è così grande da poter permettere di prendere chiunque Adesso vi faccio vedere, l'ho già provato ieri E vi confermo che appunto il budget ingaggi non è abbastanza alto da poter assorbire Che ne so, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé Non si può Dal punto di vista del budget trasferimenti La risposta è sì Perché appunto è tipo quasi un miliardo Direi sesto in campionato va più che bene Ma adesso ci arriveremo ai nostri obiettivi Quindi conferenza stampa Dobbiamo raggiungere un buon equilibrio Comunque la squadra sarà da rifare da capo Però possiamo andare a prendere un sacco di giocatori Quello sì Allora, vi faccio vedere immediatamente il nostro budget Quindi abbiamo un miliardo praticamente di budget trasferimenti Ma quello è la parte minore, diciamo Il budget ingaggi è 33 milioni Ora, io vi faccio vedere Appunto per confermare quello che ho detto prima Che non si può fare quello che ho detto prima Ad esempio, Cristiano Ronaldo prende 39 milioni di ingaggio Quindi Cristiano Ronaldo già non lo possiamo prendere Perché prende di più Messi prende di più Lewandowski prende praticamente tutto il budget ingaggi De Bruyne prende tutto il budget ingaggi Neymar prende tutto il budget ingaggi Giambappé si potrebbe pensare di poterlo prendere Perché 21 milioni, ne avanzano 12 Puoi pensare di, puoi pensare di, insomma Di avere quei 12 milioni per comprare altri giocatori Salah potrebbe essere un obiettivo realistico Appunto 18 milioni di ingaggio 32 ne abbiamo, 33 Quindi 15 milioni avanzerebbero Comunque, per farvi capire che alla fine Possiamo prendere massimo due top player A livello di budget ingaggi Se vogliamo andare in quella direzione Perfetto Perché magari qualcuno poteva dire Ma è così, è troppo facile Compri tutti, ti fai il dream team Nella vita reale è così Nella vita reale è così Possono comprarsi tutti e farsi il dream team Perché il budget ingaggi ce l'hanno infinito Qui nel gioco invece siamo messi un pochino peggio Qui nel gioco siamo messi un pochino Diciamo siamo un pochino più tirati Ecco, nonostante appunto il budget Allora, andiamo subito a fare il nostro mercato interno Ovvero a vedere chi è degno di rimanere Allora Dubravka, anche se è capitano Mi dispiace, non sei degno Woodman, puoi rimanere Darlow, puoi sparire Gillespie, o Gillespie, puoi sparire Lashel, puoi sparire Char, puoi sparire Clark, puoi sparire Fernandez, puoi sparire Dammet, puoi sparire Deve rifarci la squadra Non so se l'avete Non so se è chiaro Ricci, puoi sparire Lewis, puoi rimanere 22 anni, puoi rimanere Ma anch'io l'ho usato Ieri sera Volevo vomitare Quindi via Kraft, via Conosco solo le sottilette Aiden, via Shelby, via Hendrick, via Cazzo, il Newcastle non c'è un giocatore futuribile Ecco, Longstaff Almeno lui Può rimanere Almiron, non ci servono esterni di destra Poi vi farò vedere il modulo Se Maximan, ovviamente, rimane Frazier, via Murphy, via Wilson, Callum Wilson, via Joelinton, come punta di riserva Può rimanere Gale, può sparire Mugnoz, 19 anni Può rimanere Può rimanere Mugnoz Assolutamente sì Ok, quindi come vedete La squadra è tutta da rifare C'è Insomma La parte divertente è questa Che la squadra è praticamente Tutta da rifare Quindi possiamo prendere chi vogliamo Allora Io partirei dal portiere E Insomma Come portiere Io credo che Ci siano Insomma ci sia Non sia così Insensato che ci vada Ovvero Donnarumma Io credo che il Newcastle Possa dare i soldi Che vuole Che vuole Raiola Per il suo assistito E Non ci vedrei così Non vedrei così scandaloso Il fatto che Donnarumma Vada al Newcastle Tipo a 18 milioni all'anno Perché glieli danno Glieli danno Sicuramente Quindi Donnarumma Secondo me è un obiettivo Realistico Per quanto riguarda Il Il Newcastle Anche nella vita reale Poi per quanto riguarda Invece Difensori centrali Abbiamo bisogno di due Difensori centrali buoni Uno già ce l'ho Gioca alla Juve E È panchinato A oltranza Per far giocare Bonucci e Chiellini Che hanno Il doppio dei loro anni Hanno Hanno il doppio dei suoi anni Ovvero Deligt Deligt Che anche lui vuole Trasferirsi nel nostro club Come vedete Diamo alla Juve 100 milioni di clausole Decisoria 6 milioni all'anno E Deligt È un giocatore Del Newcastle Ci serve un altro Difensore centrale Qui Diventa già un pochino Più difficile La questione Perché Non ho Non ho bene in mente Chi prendere Non so chi prendere Attualmente Ovviamente Andiamo su giocatori giovani Perché A livello di A livello di Ingaggio I giocatori già affermati Vogliono tanti soldi Come vi ho fatto vedere prima CR7 Messi in particolare E non possiamo andare in quella direzione Quindi Potremmo andare a prendere Se vogliamo fare Tipo Razzia in Italia Potremmo prendere bastoni Oppure Potremmo andare a prendere Romero Dal Dal Tottenham Che è un profilo Di Più basso livello 22 anni 81 Opamecano Dal Bayern Monaco Che sta facendo un po' di danni A dire il vero Nella vita reale Mi sta capitando spesso Di guardare il Bayern E vedo cose Cose brutte Però 21 anni 81 di Overall Forse è meglio Bastoni Però Bastoni costa di più Esatto La clausola decisiva di Bastoni È 65 milioni Non che sia un problema per noi Prende anche più di Upamecano Però direi di andare a prendere Bastoni Facciamo Razzia in Italia Io credo che L'Inter Vedendo una Un'offerta del genere Da 65 milioni Possa liberare Bastoni Adesso servono Due riserve C'è tale Botman 20 anni 77 Mi piace Sarai mio Beh Alla fine Alla fine Il Newcastle Farà questo Con la nuova proprietà Lui ha detto Che mette 250 milioni Per incominciare Per incominciare 250 milioni E poi il resto Il resto si vede Insomma Kabak Dalla panchina Non è male Kabak Dalla panchina Non è male Direi di no Dalla panchina Può uscire Tranquillamente Quindi alla fine Non è neanche così Non è neanche così Assurdo Pensare Che Il Newcastle Non farà questo Cioè È difficile Pensare il contrario Loro hanno Un potere D'acquisto Talmente forte Da Veramente poter Mirare Qualsiasi giocatore E dire Quanto vuoi Cioè Tu quanto vuoi All'anno E squadra Tu quanto vuoi Per questo giocatore E loro ti dicono Va bene Te li do Cioè È per quello che Il mercato Attualmente Che stiamo facendo Qui Su 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 PES È magari un pochino Monotono Appunto perché Stiamo simulando Il potere d'acquisto Spropositato Del Newcastle Nei prossimi anni Bastone vuole 3 milioni 3 milioni e 6 Va bene Te li do Cioè Va bene Tuoi 3 milioni e 6 Botman 37 milioni Di bot Va bene Tuoi Kabak 33 milioni Vostri Cioè Proprio Spendere E spandere Vostri Vostri Vostro 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 Prima punta Voglio rimanere in tema Holland Subito Paghiamo la causa Scissoria Ed è nostro Senza quel tipo di problema Vi dirò di più Prendiamo anche Vlaovic Vlaovic esce dalla panchina Così impara a romper i coglioni a Firenze Cioè È È qualcosa di È qualcosa di 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 Mostruoso Quello che Quello che puoi Quello che puoi fare E quello che potranno fare loro Obiettivamente parlando Quello che potranno fare loro Sotto questo punto di vista Comunque adesso è arrivato il momento di vendere I cessi a pedali Che abbiamo nella nostra squadra Penso che anche i tifosi del Newcastle Insomma tra l'altro hanno fatto una bellissima coreografia Per la partita contro il Tottenham Con appunto scritto Uno striscione con scritto Ci rialzeremo Ci rialzeremo Blah 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 Hanno perso Col Tottenham Tra l'altro stava morendo un tifoso Per di più In quella partita Però Almeno Pare che ci sia un pochino più di Come dire Di Felicità e gioia All'interno della squadra Anche perché insomma Considerando chi è arrivato come presidente E i soldi che può mettere Saremmo più o meno tutti contenti Allora Io ho venduto tutti Senza neanche controllare chi fossero Credo che abbiamo venduto tutti i difensori centrali Comunque uno, due, tre Esatto Ne abbiamo comprati Abbiamo comprato Due Quattro difensori centrali Abbiamo due, tre Quindi Quei difensori centrali siamo a posto Adesso andiamo nella nostra lista selezionati Perché abbiamo Holland Da andare a prendere Anche qua Stesso l'entico discorso Quanto vuole il Dortmund? 120 milioni Cosa ci sono? Tuoi L'ingaggio Quanto vuoi Erlin? Quanto vuoi? 14 all'anno? Ti do 14 all'anno per tre anni? Vuoi? Tuoi Andiamo Vlaovic Dusan La Fiorentina vuole 29 Ma insomma Si vede che non sono prezzi aggiornati Perché insomma nella vita reale Vlaovic dovrebbe andare a 40-50 Quanto vuoi? Quanto vuoi? 3 milioni all'anno? Tuoi 3 milioni all'anno? Che sono 3 milioni all'anno? Tuoi Tuoi Che problemi ci sono? Tuoi 3 milioni all'anno Tuoi Allora Esterno destro Ed esterno sinistro O esterno sinistro Che è meglio Allora abbiamo Semmaximen Ma ci serve un esterno di destra In tutto questo Allora Chi potrebbe essere il nostro esterno Il nostro esterno di destra? Io vedo un succosissimo Ferran Torres Che Gioca prima punta al City Almeno ha giocato pure prima punta al City Il falso 9 Prendiamo Ferran Torres Dai Che tanto Non vorrei Non è che è uno scarto del Non è che è uno scarto Del City Perché non andrei in quella direzione Non mi sembra proprio uno scarto Però diciamo che non mi sembra neanche un giocatore Generazionale Che rimarrà al City A vita A fare il fenomeno Ecco Cioè non mi pare quel profilo Potrei sbagliarmi Comunque prendiamo anche Anthony Dall'Ajax 22 milioni assolutamente Non è convinto che il suo ruolo Ti do 2 milioni e 7 Vediamo se sei ancora poco convinto E Serve anche un esterno di sinistro Serve anche il Kulu Kulusevski Ma abbiamo già preso tanto Dalla Juve Abbiamo preso dell'Ict A sinistra direi di prendere Gakpo Che è abbastanza esploso al PSV Un'opinione positiva Quindi ti do 3 anni A un milione e 8 Tuoi E andiamo anche a farci l'attacco adesso Quindi dopo aver fatto la difesa Facciamo anche l'attacco Quindi a questo punto Io direi di iniziare a mettere dentro Di schierare il nostro nuovo assetto Il nostro nuovo assetto Che insomma Stiamo poco a poco dando forma a questa squadra Direi tassello per tassello Proprio pezzettino per pezzettino Comunque la formazione non sarà questa Ma sarà questa Questo 4-2-1-3 Appunto dove Questo è il Questo è l'assetto tattico Ovviamente servono giocatori in grado di Avere questo tipo di Insomma questo tipo di gioco Però poco a poco andremo a costruire anche questo Allora ci servono i terzini Un trequartista E tutto il centrocampo Ok Allora Got it Va bene Ovviamente l'attacco l'abbiamo messo a posto adesso Quindi andiamo a cercare dei profili Per il centrocampo Trequartista e terzini Allora partiamo dai terzini Terzini Ne servono due per parte Di terzini sicuramente Allora magari non andiamo sui colpi grossissimi Perché onestamente non credo che siamo Non siamo a questi livelli Renan Lodi Dall'Atletico Siamo sicuri che questi non vanno da Renan Lodi E E gli offrono 9 milioni all'anno Che Secondo me non è così Lucien Bonnet 18 anni 79 50 milioni Windal Allora facciamo così Facciamo per Renan Lodi Facciamo per Lucien Bonnet Che però non si può prendere Quindi facciamo per Windal Facciamo Chi è questo Pedro Porro Non costa niente Ah non posso prenderlo però Mucchielet Del Real Non si può prendere Diogo Dalotta 10 milioni Potrebbe essere un colpo Fattibile Sergino Des Dal Barça Questo già un pochino meno Ehm Andiamo Terzini Destri Ce ne sono No Andiamo ad aumentare allora l'età Magari Mettiamo 12-24 anni Per il terzino destro Ehm No non questo Ma terzino destro In modo che appunto Abbiamo un Un pochino più di Un pochino più di Di scelte Ecco Allora c'è Wanbisaka Che sarebbe sempre Dello United C'è Pavar Che Gioca e non gioca Poi chi c'è Ma Pavar Potremmo prendere Onestamente Tra l'altro sta giocando Sule Nella sua Nella sua fascia Quindi Pavar Potrebbe essere un giocatore Che si può muovere Ehm Onestamente parlando Non vedo Non vedo Tutto questo Tutta questa incedibilità Da parte del Bayern Su Pavar Se devo essere onesto Allora Andiamo al Centrocampo Centrocampo dove servono Due trequartisti almeno Almeno due trequartisti Perché Appunto Ehm Titolare e riserva Allora sicuramente Awar Che può giocare Più o meno ovunque Ehm Questo è poco ma sicuro Poi che abbiamo Potremmo prendere Dani Olmo Ehm 80 milioni Onestamente Ripeto Non è Non è quello il problema Addirittura ci sarebbe Van de Beek Che Ehm Pare Pare che Insomma Ci siano delle Delle voci Su Van de Beek Di cessioni A riguardo Ehm Che tra l'altro Costa la metà Di Dani Olmo Van de Beek Può giocare anche CC onestamente Quindi potremmo Potremmo anche Potremmo anche fare Entrambi Cioè ripeto Non è un grosso problema Ehm Yuri T.Elements Ehm Va bene Ehm Pedri Potremmo addirittura Prendere Pedri Dal Barça Per una 85 milioni Ehm Pedri è un po' Il Insomma Il futuro Del Del Barcellona Vedo Difficile Che possa essere Venduto In questa maniera Così Così brutta Però Oh Non si sa mai C'è il nostro Arit Ehm Grande Arit C'è Virz Dell'Everkusen Fortissimo E lui potrebbe Essere titolare Addirittura Potrebbe Potrei addirittura Prendo titolare Bellingham Non credo che Il Dortmund Lo venda Il buon Jude Però potrei Potrei anche Prendere Bellingham Ovviamente Non è 32 milioni La clausola Decisoria Sarà tipo 100 milioni Adesso Però Pazienza Ehm Ok Serve adesso Serve adesso Un mediano Almeno un paio Di mediani Servono giocatori Importanti Davanti alla difesa Magari Non De Jong Anche se Insomma Anche se Comunque Frenkie Non so quanto Rimara ancora Al Barcellona Vista la situazione Al Barcellona Non ho idea Onestamente Di quanto De Jong Possa rimanere Di quanto Possa rimanere Al Barcellona Però piglia un ingaggio Fuori di testa Almeno per Per quello che possiamo Mettere noi Quindi direi Direi di no Allora sicuramente Rice Che è dato in vendita Partente Nella vita reale Chouameni Può giocare Davanti alla difesa Come Fabbro Ferraio Assolutamente C'è anche Sumare Che ha Appunto Questo Collante Copminers Dell'Atalanta E direi Che siamo a posto Così C'è anche Martinez Che tra l'altro Dovebbe essere Il Martinez Che avevo preso io All'Atalanta Che era difensore E poi è diventato Mediano Infatti può giocare Difensore centrale Penso sia lui Non vorrei sbagliarmi Comunque anche Gravenberg 19 anni Direi che si può Prendere lui Poi Tonali Magari non lo so Se Sandrino Tonali Può essere Può essere Quel colpo lì Quindi abbiamo fatto Terzini Centrocampo Ok Adesso bisogna fare Però le offerte Perché Perché ovviamente Abbiamo messo i giocatori Nella lista selezionati Però adesso Dobbiamo aspettare Prima i responsi Di Holland E compagnia E poi Appunto andare a vedere Quindi Holland Arriva La bestia norvegese Al nuovo Newcastle Abbiamo già speso 400 milioni In tutto questo Budgetingaggi Abbiamo speso Una ventina di milioni A tutti gli effetti Perché abbiamo venduto Gli altri Ferran Torres A 44 milioni Nostro Proprio in semplicità Vlaovic Arriva A 3 milioni All'anno Nostro in semplicità Anthony Come esterno destro Arriva Vediamo Anthony O Gakpo Allora Abbiamo Semmaximena A sinistra Quindi a destra Servirebbe Abbiamo Diciamo che ci serve Ma in realtà Direi di prendere Gakpo Prima Gakpo Perché costa Di meno 2 milioni E 1 Mentre Anthony Vuole 2 milioni E 7 Quindi non possiamo Prenderlo Perché abbiamo Finito Il budget Ingaggi Però c'è un'offerta Per Gale Dell'Atlanta United Quanto ha D'ingaggio Questo 1 milione Ok Lo svincoliamo In modo che Andiamo a 3 milioni E Possiamo quindi Pagare Anthony Perfetto Quindi adesso Abbiamo Per il rotto Della cuffia Abbiamo preso L'attacco Adesso dobbiamo vendere Tutti Dobbiamo veramente Sperare Di vendere Tutti E E appunto Eccolo qua Venne presentato Erling Holland Al Newcastle E adesso Ovviamente Dobbiamo tirare un po' I rem in barca Per quanto riguarda Il budgeting Agile Adesso vediamo se Arrivano offerte No Non arrivano offerte Per nessuno Purtroppo Comunque Abbiamo già Comprato Holland Elite Donnarumma Ferran Torres Bastoni Abbiamo preso Un sacco Di giovani Che è quello Che ci interessava Fare Quindi Abbiamo Senmaximen Che potrebbe giocare Anche a sinistra Esatto Anzi è meglio Poi abbiamo Ferran Torres Abbiamo Holland Qui davanti Mettiamo Dusan Vlaovic In panchina Poi mettiamo Gakpo Ed Anthony Ok Adesso serve Il centrocampo Mettiamo Longstaff Al posto di Willock E Hendrick Lo mettiamo Mettiamo Willock Al posto di Hendrick E mettiamo Shelby Come CC Anche se è meglio Mediano Però Pazienza Ok Quindi dobbiamo vendere Un sacco di Un sacco di giocatori Abbiamo Ovviamente La Abbiamo Ovviamente La L'intesa bassa Perché abbiamo cambiato Tutti i giocatori Allora vediamo Se qualcuno Ha qualche cosa No Quindi direi Di lasciare a Ricci La fascia di Capitano Per il momento Avanziamo ancora Andiamo a vedere Se ci sono Delle novità Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il Il Mercato Insomma Direi che Delict Giocherà Titolare Contro Il West Bronwich No Contro L'Albion Ho Un'offerta Per Shelby Molto bene 12 milioni 8 dal Watford Via Proprio Ok Abbiamo 1 milione 9 Così Altre Offerte Assolutamente No Ok Quindi Andiamo Vedere Dei nostri Centrocampisti Chi prende Questa Cifra Qui E Bellingham L'unico Che prende Questa Cifra Anche Virz Siccome Ci manca Un trequartista Direi di Prendere Virz Che appunto Prende Questo Milione 7 Milione 8 Addirittura Vuole Paghiamo 57 Milioni Causa Decissoria E gli Diamo Questo Milione 8 Vediamo Se Vediamo Se appunto Vuole Venire In Questo Milione 8 Altrimenti Ci fiondiamo Su Bellingham Anche Lui Milione 8 Vediamo La Causa Decissoria E Gli Diamo Tre Anni Di Contratto Vediamo Vediamo Dei Due Chi Possiamo Prendere Ecco Insomma Che Alla Fine Purtroppo Gli Ingaggi Questi Sono Holland Possiamo Toglierlo Dalla Lista Ingaggi L'abbiamo Preso Vlaovic Possiamo Togliere Lista Ingaggi L'abbiamo Preso E ci Manca Quindi Tutti Questi Da Comprare O Comunque Non Possiamo Comprare Tutti Però Almeno Da Provare A Prendere A Questo Punto I Centrocampisti Perché I Terzini Possiamo Anche Farne A Meno Allora Impostazioni Del Budget Innanzitutto Quindi Ricevi Come Budget Ingaggi E Paga Con Budget Trasferimenti Quindi Al momento Mandiamo Tutto Nel Budget Ingaggi Assolutamente Tutto Nel Budget Ingaggi Bene Siamo Arrivati La prima Di Campionato Ci vediamo Al prossimo Episodio Con Il Debuto In Campionato E Con La Fine Del Calciomercato Penso Penso Di Si Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo Buongiorno